Patate alla pizzaiola, semplici, sfiziose e davvero buonissime. Per prima cosa taglia le patate a pezzi grossolani e trasferiscile in padella. Aggiungi la passata di pomodoro. Aggiungi acqua e cuoci con coperchio per circa 35-40 minuti. Se le patate dovessero asciugarsi troppo, aggiungi un po' d'acqua. Una volta cotte, trasferisci le patate in una piccola teglia precedentemente unta. Aggiungi un po' di sale e un po' di origano. Cospargi con mozzarella grattugiata. Trasferisci nella friggitrice ad aria o nel forno con grill a 180 gradi per circa 7-8 minuti. Sforna le patate alla pizzaiola e buon appetito!